Bambini, ragazzi ed adulti da ogni zona d'Italia hanno inviato le fotografie di oltre 40 presepi realizzati tra case, scuole, parrocchie o circoli, feicolando tanti e diversi messaggi e valori collegati alla natività. Si è così conclusa la quarta edizione di Un Presepe al Giorno, promossa dalle ACLI di Arezzo con le premiazioni all'Istituto 4 Novembre di Arezzo. Le creazioni erano state pubblicate sulla pagina Facebook delle stesse ACLI e poi valutate da una giuria che ha individuato le più meritevoli in termini di creatività, originalità e significato. Sono arrivate immagini presepi da tutta Italia, con temi sociali anche, tra cui la guerra, tra cui la violenza contro le donne, quindi non solo la proposta di stare insieme ma anche di riflettere su temi tramite l'arte, tramite la costruzione di qualcosa che se è possibile condividere ci fa riflettere poi guardandolo. A vincere nel concorso per le scuole proprio l'Istituto Compronsivo 4 Novembre per l'Opera Corale, come se fossimo in un presepe realizzata dagli studenti della Scuola Media ed ispirata alle sculture del ciclo dei mesi. Tutta la scuola ha partecipato alla preparazione di queste figure che poi sono state montate nel presepe. In realtà il progetto è un progetto di conoscenza storico-artistica del ciclo dei mesi della Pieve di Arezzo, che poi però è stata montata in un presepe che rappresenta la partecipazione di tutto il mondo umano, insomma tutte le attività umane alla festa della Natività.